Ciao ragazzi, ciao! Ok, ecco qui, dovrebbe essere fissato il commento, ok, ciao ragazzi, ciao Gabriele, ciao Ellison, ciao Eleonora, non è ancora fissato il commento, ok, fissa il commento in alto, ottimo. Ok, ciao Ali, ciao Yasmin, ciao Marta, ciao Susanna, ciao ragazzi, vedo che cominciate ad essere sempre di più. Ciao! 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 Immagino saremo un po' da tutte le parti del mondo, più molte persone anche saranno dei nostri direttamente dalla Toscana oggi. Ciao! Ok, se intanto potete in basso, a destra, mettere il cuore, così riusciamo a diffondere meglio la diretta. Ciao Lars, ciao! Tanti ex studenti già con noi, bene, sono contenta di vedervi ragazzi. Ciao Gianluca! Bene! Allora ragazzi, allora, iniziamo intanto che piano piano diventiamo sempre di più. Vi faccio una piccola introduzione su Wikipedro. Oggi parleremo con Pedro, che in realtà si chiama Pietro, ma è chiamato Pedro perché ha vissuto un po' di tempo all'estero, precisamente anche a Cuba, e perciò tutti lo chiamano Pedro, soprattutto i nostri studenti che probabilmente lo conosceranno poco, Pietro o Pedro è un fiorentino doc e è molto contento e fiero di esserlo, ha vissuto all'estero per tanto tempo, poi è tornato in Italia e ha cominciato nel 2017 a girare alcuni video e con la collaborazione di Radio Firenze ha cominciato a fare questi video e Radio Firenze gli ha suggerito il nome Wikipedro. Ovviamente, come tutti sapete, Wikipedia è la grande enciclopedia in cui potete trovare tutte le informazioni e lui in particolar modo fa questi video molto, molto, molto carini ragazzi, molto istruttivi e molto divertenti su Firenze e sulla Toscana facendo come una sorta di guida virtuale dei monumenti e di tutto ciò che c'è da vedere con anedditi molto particolari. Ciao Marina! Mariana, ragazzi, c'è dal caffè con Betta anche a qui presenti anche alle otto e mezza la sera per praticare sempre italiano, perfetto, va bene, ok, allora ragazzi direi, allora aggiungo, aggiungo Pedro un attimo solo, vediamo, eccolo eccolo no, leggevo ciao da Ibiza ma è scorretta però lei, scusami non va bene è scorretta, giusto non te lo puoi permettere ciao da Ibiza anche se sei a Ibiza ci devi dire che sei a Calenzano perché non ci puoi dire che sei a Ibiza cioè si parte subito male una diretta partiva subito male di che sa dire ciao da Ibiza non esiste, scusami vedo che parti già carico bravo io ho anche vissuto a Ibiza per cui mi fa ancora più rabbia io non ci sono neanche mai stato quindi mi fa ancora più rabbia non ci credo che non ci sei stato perché? io non ho la faccia di uno che non è mai stato e invece non sono mai stato sono andato direttamente a Formentera sono atterrato direttamente a Formentera come stai? bene, tutto bene sono tornato da 18 km anche oggi a piedi sono cotto però cotto ma felice bene, che hai fatto? cosa hai fatto? però nulla, mi sto preparando un po' sai domani è San Giovanni è un San Giovanni un po' particolare per Firenze un po' triste purtroppo perché veramente quando ci viene viene tolto viene tolto per giusta causa quando vengano tolte le nostre tradizioni purtroppo si sta male capito? ci siamo passati con lo scoppio del car per Pasqua e quest'anno non ci saranno i consueti fuochi come si chiamano noi fuochi d'artificio però insomma il vero dolore da Fiorentino è non vedere la finale del calcio storico è la vera coltellata nel cuore quindi sono andato un po' a capire la città un po' come sta ho parlato un po' con qualche calciante ho parlato un po' sono andato in piazza insomma ho cercato di respirare quest'area un po' malinconica di una Firenze senza calcio storico mi hai anticipato l'ultima domanda per cui ti stoppo scusami, zitto io zitto io zitto io parlo troppo anche con le donne parlo troppo parlo troppo no ma sei così avanti che mi hai preceduto il futuro hai capito? allora parti parti vado iniziamo così basati va bene allora iniziamo vai prima domanda ho fatto prima una piccola introduzione per i ragazzi i studenti che un po' non conoscono un po' no va bene allora tu hai vissuto all'estero per un po' di tempo sì poi hai fatto diversi lavori e sei ritornato in Italia e insomma ti sei reinventato e insomma anche con la tua creatività cercando di fare ciò che ti piaceva e che anche effettivamente ti esce pure bene capito? ti esce pure bene è più il secondo aspetto su cui io mi concentrerei perché sì sono tutte cose che mi piacciono però il vero snodo fondamentale è anche un po' il messaggio che mi piace mandare a volte quando mi viene chiesta questa cosa è il concentrarsi su quello in cui si è bravi prima perché molto spesso quello in cui sei bravo e quello che ti piace molto spesso sono sono allineate le cose ma non sempre è così quindi prima di concentrarsi su un'eventuale passione per me la passione a volte è un falso amico concentrarsi su quello in cui sei bravi cioè analizzare le proprie qualità e a quel punto partire nel senso io sapevo cioè sapevo mi ero accorto dopo poco comunque a fare i video ero bravo lo sapevo fare e quindi la passione per l'arte per la storia per Firenze per le curiosità quella dopo ti viene un po' come come la fame ti viene mangiando capito? te capisci sei bravo a fare qualcosa e quello ti stimola a incuriosirti a studiare a documentarti capito? ma ce l'hai sempre avuta questa passione per la storia eccetera? ma in realtà ma non ti credere non ti credere tantissimo no non mi credo no 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 perché a volte uno dice questo è malato questo è laureato questo è dottorato ma dottorato di che? no no in realtà allora devo dire tra le pietà a scuola ero bravo nelle materie umanistiche quindi andavo bene a andavo bene a saluto Alessandra e la mia amica e spero stia bene le mando un bacio ero bravo nelle materie umanistiche comunque italiano storia filosofia storia dell'arte cioè sentivo che comunque mi piaceva però ci si ferma lì cioè non ti credere che non ci dormivo la notte cioè assolutamente era una cosa sì mi piaceva la leggevo e ascoltavo volentieri però non ho avuto l'imprinting quello più o meno mi è venuto col tempo mi è venuta con con il mio appartamento che avevo a Firenze lavorando nel turismo che è una cosa che comunque mi piace molto avere a che fare con la gente stare con le persone comunque mi era salito un po' l'orgoglio per la mia città quando mi arrivavano i clienti a casa mi piaceva mostrargliela comunque mi piaceva dire guarda vai qua vai di là vai di su vai di giù e poi da lì ho detto ma iniziamo a fare dei video no? magari per affittare casa mia magari la gente guarda i video e poi viene a dormire da me manco uno manco uno infatti quindi comunque se cercate casa io ho casa se ti sfrattano cara se ti sfrattano sai chi chiamare ma grazie per avermi tirato questa perla così di fortuna se ti sfrattano sai dove sai dove sai chi chiamare ti segno nella mia lista nera ok? sei al primo posto bene questa è la strada del primo wikipedro marcio capito? e ascolta dato comunque ti sei reinventato hai fatto tanti lavori adesso sfruttando le tue passioni ti sei reinventato al momento nel periodo post pandemia tante persone si devono reinventare devono riorganizzare la propria vita che consiglio potresti dare a queste persone che devono reinventarsi tutti abbiamo dovuto farlo un consiglio dai domande sai non è facile esperienza nel mondo lavorativo ce l'ho ma non ti credere non ti credere tantissimo quindi quando si ha a che fare con bollette pagamenti scadenze debiti insomma fa tanti discorsi però poi dopo c'è da portare risultato a casa come si vuol dire però secondo me questo mondo digitale dei social soprattutto per magari chi è più giovane può può essere uno strumento in più per sviluppare un un proprio concetto una propria passione un proprio sogno o comunque anche anche un lavoro cioè questo è un momento storico che è comunque presente delle opportunità i social secondo me se usati bene sono delle opportunità e che questa pandemia possa essere veramente un'opportunità che sia un qualcosa di positivo che venga fuori qualcosa di positivo capito? sì assolutamente penso la stessa cosa lo spero assolutamente bisogna vedere anche i lati positivi perché sostanzialmente ce ne sono per chi vuole vederli e trovarli ovviamente ci vuole forza certo e per inventarsi e reagire giusto ok leggo nei commenti c'è Trabore saperelo anch'io tu sei laureato ma assolutamente no ho fatto un esame di maturità imbarazzante ora siamo nel periodo di maturità se ripenso al mio esame di maturità mi viene da piangere cioè bravissimo bravissimo no non sono laureato in niente quindi ti ringrazio di rifare la domanda però no manco mia madre mi chiede così tante volte se sono laureato e non lo sono non lo sono sono molto ma è solo un pezzo di carta è solo un pezzo di carta no no in realtà no sono cose importanti non è vero non sono uno di quelli che dice che non conta perché comunque se una persona è laureata vuol dire comunque ha portato a casa un risultato e ha comunque finito un qualcosa che abbia iniziato già quello merita merita comunque un un grande giudizio sai a volte è più che importante il cosa è importante il come capito io ho cavalcato molto l'onda del come cioè più che raccontare le cose e io ho sviluppato il come raccontarle capito ci sono persone le guide turistiche soprattutto che sono molto molto più preparate di me assolutamente e ho trovato questa chiave leggera e comica e a volte spesso comica non sempre perché non voglio non sono un comico non voglio mettere la pressione addosso di essere un comico e di far ridere per forza però ho trovato magari questa chiave originale quindi il come mi sta aiutando capito ok infatti è questo che penso allora noi abbiamo uno stile comune penso la nostra scuola con il tuo modo di fare i video allora prima ti faccio un appunto cioè prima quando dicevo un pezzo di carta nel senso che è sicuramente un percorso importante però vedi non solo le persone che hanno una laurea poi possono ma che scherzi ad esempio molte persone hanno una grande cultura ma non hanno la capacità di comunicare certe cose e di fare breccia poi nel cuore nella mente delle persone e penso che tu riesca a farlo unendo poi nei tuoi video io ad esempio ovviamente dall'accento si sente leggermente non sono fiorentina ma c'hai anche la cadenza cioè vai e finisci le frasi con l'intonazione finale cioè non solo hai l'accento nordico ma hai mantenuto ed è bellissimo questa cosa hai mantenuto la cadenza cioè vai cioè la sali mi ricordi tantissimo il mio amico che ti dicevo l'altro giorno di Bergamo anche lui parla uguale a te cioè parla con l'accento ma avete proprio la stessa cadenza di finire le frasi ed è bellissima è bellissima bene a me piace quella fiorentina figurati però non sono riuscita a prendermi no brava ma non lo prendere perché tanto poi dopo si mischiano e viene un troiaio come si dice noi clamoroso quindi rimani così bergamasca che poi tra noi a noi uomini l'accento del nord e ci manda i pazzi quindi c'è è una cosa per noi cioè almeno per me per me l'accento nordico è incredibile questa mia è nuova però buona sapersi io per me mi dà la donna con l'accento nordico io perdo la testa completamente eccola va bene no comunque dicevo che appunto nei tuoi video combini i contenuti contenuti interessanti aneddoti molto istruttivi e davvero davvero interessanti con improvvisazioni che ti permettono poi di far uscire questo tuo modo di essere e queste improvvisazioni che poi fa brecciano nel cuore delle persone e sei riuscita ad unire un po' l'amore per Firenze con la storia dell'architettura e del turismo adesso ci stai unendo dello sport vedo ho visto alcune cose dei giri in bicicletta sta facendo un troiaio però un troiaio bello un delirio un troiaio con stile sta venendo fuori mi piace il troiaio con stile ok perciò da dove mi prendi l'ispirazione caro? ah da dove ti prendo scusami da dove mi ero un attimo incantato dopo ti dico il perché ma te lo dico dopo privatamente no allora dove prendo l'ispirazione ma guarda in realtà selezionare l'argomento è la parte più difficile e più stimolante compro tanti libri vedo tanti video su youtube cammino tanto cerco di farmi prendere un po' dall'improvvisazione parlo tanto con le persone mi faccio consigliare molto dalle persone quindi essendo un po' una persona creativa cerco di rubare 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 a destra e a sinistra cioè mio nonno mi diceva sempre ruba con gli occhi e non toccare con le mani ed è una cosa veramente che mi porto dietro tanto perché perché rubare ma la vedo bella però molto il parlo rubare magari viene fraintesa ma è giusto prendere qualcosa da qualcuno poi dopo chiaramente rielaborarla a tuo modo però sì selezionare l'argomento è difficile però è anche stimolante molto stimolante è una sfida con te stesso capito perché dopo un po' la gente dice ma gli avrà finiti gli argomenti sono finiti e ora di tanto ma guarda ma spessissimo ma a volte mi dicono ma poi ora ma di che parli e invece dietro dietro guarda l'ho detto l'altro giorno una ragazza una giornalista e mi ha chiesto pensi di sapere tutto di Firenze assolutamente no perché dietro un difinto si nascondono mille storie interessanti che possono essere riguardanti il museo dove si trova l'opera l'artista della scuola l'artista della disegnata la curiosità che ci può essere dentro cioè veramente ce ne sono tantissime capito veramente ti saprano tanti spirali bene ok per cui tu fai questa tua selezione poi in base al random molto è importante è importante perché se ti dai una scaletta fissa diventa anche un qualcosa di di monotono e invece per esempio guarda te lo dico sinceramente sto preparando un video sui sugli orafi di Pontevecchio però stamattina mi sono reso conto che invece ne devo fare un altro prima capito quindi sono molto sono molto libero e molto zingaro capito nel senso mi do molta mi do molta libertà capito mi do molta libertà sì sì no ti capisco sostanzialmente faccio anche lo stesso con le lezioni per cui magari preparo una lezione il giorno dopo mi girano non c'è un momento di farla e si improvvisa si cambia ok guarda ma immagino che ti avranno chiesto comunque se ti piacerebbe insegnare te l'hanno chiesto dici qui nei commenti o in generale no in generale no mi hanno detto molto spesso di andare a insegnare nelle scuole o comunque di fare degli interventi quello molto volentieri ma no non credo di avere la mia nonna ora prendo i detti dei nonni ma che soltanto poi dopo ti li ritrovi sempre nella vita e la mia nonna mi ha sempre detto a ognuno il suo quindi se sono professore lascia gli fa professore a loro le guide turisti te sei brava fa quello fai quello fai quello ognuno il suo capito cioè è così poi ore che c'entra uno poi dopo può fare altro anche perché i video non è che ti andano da mangiare però è giusto concentrarsi su poche cose ma fatte bene ok bene allora senti qua andiamo un po' sul argomento dialetto fiorentino allora tu sei un po' l'esempio del tipico fiorentino adesso invece io ti passo gentilmente e molto agilmente lo scettro da insegnante ti volevo chiedere se puoi spiegare ai nostri ragazzi gli studenti che ci seguono alcuni tratti particolari del dialetto fiorentino sono curiosa ragazzi seguite che seguite la diretta siamo 103 la ragazza qui davanti la professoressa ha già sbagliato in maniera proprio colossale muta ora mi fai parlare ora mi fai parlare allora il dialetto fiorentino non si può sentire non abbiamo il dialetto parliamo italiano parliamo ogni tanto in maniera un po' così bracalona come si vuol dire ma non abbiamo il dialetto come a Bergamo non ce n'abbiamo il dialetto noi va bene abbiamo delle espressioni però che un po' così colorite e che hanno molto spesso una discendenza storica allora visto che domani è San Giovanni mi piacerebbe partire con San Giovanni un volo inganni quando si diceva a ping pong ti sicuro l'avrei detto che uno magari la vai lunga ti dice ha toccato ha toccato e lui ti dice no si rifà vinci il punto e gli fai San Giovanni un volo inganni ma perché San Giovanni un volo inganni San Giovanni è il patrono di Firenze e dietro le monete però questi sono 20 centesimi marci per dirvi che i video non portano denaro il vecchio il fiorino fiorentino aveva il giglio davanti e dietro aveva San Giovanni Firenze era una città molto importante di banchieri e per capire l'autenticità delle monete venivano battute sul marmo capito il fiorino il fiorino di Firenze non veniva battuto sul marmo perché c'era San Giovanni se c'era San Giovanni dietro voleva dire che la moneta era autentica e che era vera e quindi non c'era bisogno di battere quindi da lì San Giovanni un volo inganno capito perché se c'era San Giovanni dietro vuol dire che la moneta era fiorentina ed era originale capito si ok per cui questa questa espressione me la metti fammi una top 3 me la metti nella top 3 no no non è che te la metti nella top 3 però è una cosa che magari accomuna anche altre regioni d'Italia non solo la Toscana e quindi per farviare un po' la discendenza dato che San Giovanni non è solo il patrono di Firenze ma per esempio anche di Genova e Torino quindi magari se visto che c'è magari persone anche di fuori Firenze magari può essere utile passiamo a qualcosa di più fiorentino una che mi piace tantissimo e che è un po' colorita ma mi piace è il che c'entra il culo con le quarantore no io non lo so questo ti prego il che c'entra il culo con le quarantore innanzitutto vuol dire quando te parli di un qualcosa e te cambi totalmente argomento dal niente cioè per esempio io ti chiedo a te che tanto non so neanche come ti chiami come ti chiami? no guarda come ti chiamo? sto chiedendo la diretta dimmi come ti chiami ne ho scordato bocciato bocciato Martino ah ok Martino c'è proprio un mattino allora besta fa conto parliamo parliamo della bistecca e mentre parliamo della bistecca te mi inizi a parlare di Bergamo Alt che non c'entra che non c'entrano niente i tuoi discorsi che non tornano no Bergamo c'entra sempre ti ammonisco va bene allora ok va bene allora mi parli io ti parlo di bistecca e te mi parli di Piacenza ma questo è grulla capito? allora il che c'entra è culo alle quarantore perché durante il periodo quaresimale le chiese di Firenze si riempivano e te quindi immaginati una grande festa una grande tanta gente tanta gente queste messe che duravano addirittura quarant'ore da quanto duravano tanto queste messe una volta dice che c'è talmente tanta calca tipo a ballare che un ragazzo toccò il culo a una ragazza davanti questo non sentì discorsi si girò e gli detto uno schiaffo e gli disse e lei disse lei a lui e che c'entra il culo alle quarant'ore cioè perché mi tocchi il culo durante la messa capito? questo è un ant ok bene e ti dico la terza dato che quest'anno sono i 600 anni della cupola del Brunelleschi a UFO mangiare a UFO andare in vacanza a UFO vuol dire non pagare sì c'è un'espressione simile anche in bergamasco a UFO per noi a UFO si dice perché perché quando arrivavano da Pisa da Livorno da comunque fuori Firenze i materiali che servivano per la costruzione della cupola ora parlo come te con l'intonazione praticamente praticamente su questi materiali c'era questa scritta adusum florentine opere capito? che voleva dire che quei materiali non erano soggetti a tassazione arrivavano gratuitamente capito? e quindi la sigla è A UFO e da lì A UFO per dire che vai gratis che scrocchi gratis che vai in vacanza gratis insomma monteriose gratis tutto gratis ok oh me ne hai dette tre che io non conoscevo io pensavo tu mi dicessi delle robe più simple ganso queste robe invece no mi hai sparato alto bene bene dai data bene dai beh a proposito dato che ecco mi prendi in giro sull'accento allora dimmi anche proprio dei tratti tipici della non dialetto ma è parlata fiorentina ad esempio l'aspirazione noi io a volte a volte esagero un po' nei video e infatti vengo ripreso da mia mamma che mi dice che sono molto volgare ovviamente tendo sai quando una parola finisce con la T e l'A con la C e l'A noi la allunghiamo molto capito lì si dà una strasciata capito capito tipo sei in bici madonna è pedalata capito cioè madonna oh madonna si è fatto una camminata capito questi sono tratti a me fanno molto ridere e fanno ridere anche a me da fiorentino noi si dice a volte anche tra di noi madonna ma che pettata tipo ne so stiamo a camminare c'è una salita da fare no madonna è pettata cioè no non ce la fa va te ven via va te come le la pettata la pettata e sarebbe la salita capito quindi no sono cose poi c'è grullo c'è bischero c'è tutte queste cose indotto vai che tu fai capito può essere un po' un dialetto però comunque ci si arriva a capirlo ci sono altri posti dove veramente se uno inizia a parlare il dialetto è un'altra lingua è un'altra lingua totalmente il che tu fai il che tu fai tu lo puoi aprire che mi stai chiedendo cosa stai facendo magari ci arrivi ci vuol due secondi però insomma arrivi capito yes ok grazie prof grazie a lei grazie a lei la interrogo settimana prossima ok no sto diventarsi sono un dai sono un B1 B2 Giulia posso rispondere a Giulia che chiede ma è considerato un accento così forte sì Giulia un po' sì infatti noi si usa molto tra amici cioè se devo uscire con una ragazza se devo uscire con Betta per esempio spero succeda non dirò mai Betta vale pettaccia da fare capito non glielo direi mai perché è comunque un po' scurrile cioè non è che è scurrile comunque non sta bene via giù dai ci si dice tra amici ok 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 se fai vedere altre domande a cui vuoi rispondere vai io ti vedo in faccia quella era carina molto carina molto carina allora ti faccio come tac ecco vedi il tac che è molto milanese e che ho attaccato anche i miei colleghi tra cui Raffaele il brasiliano che adesso continua tac 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 fa le cose dice tutto tac i bergamaschi che infestano tutto allora appunto abbiamo detto domani San Giovanni allora mi spieghi ai miei ragazzi che ci guardano un po' un minimo di una storiellina una spiegazioncina su San Giovanni perché è il patrono di Firenze e cosa di solito ma in realtà non nel senso era comunque una figura religiosa battagliera passavi il termine quindi dopo che la città si convertì definitivamente al cristianesimo dopo ci sapeva il dio Marte come 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 patrano Marte ma che è Marte c'era anche che si che l'Hercules ci sapeva anche la statua davanti a Ponte Vecchio ci guardava Marte e si è deciso di optare per San Giovanni ci guardava parecchio San Giovanni e dai 1200 San Giovanni diciamo che è il patrono di Firenze ed era una festa che negli anni precedenti nei secoli precedenti durava quattro giorni avevamo tante manifestazioni avevamo anche tante manifestazioni per esempio c'era il palio dei cocchi in piazza Santa Mella Novella anche Firenze aveva il suo palio che faceva veramente cagare e ci andavano veramente ci andavano guarda che ci ha ascoltato anche mia mamma fai il bravo signora via giù bisogna dirlo sono vere sono vere il palio dei cocchi era inguardabile ci andavano in tre e erano costretti ad andarci quei tre e a quel punto disse dai basta non si fa più e l'annullarono e girava c'era tanto piazza Santa Mella dove c'erano i due obelischi non mi dire di sì e poi no hai capito? giuro prof giuro promesso parola di rovetto c'erano i due obelischi e la corsa era di girare intorno agli obelischi capito? con le bighe romane quella era una manifestazione si teneva proprio per San Giovanni e poi vabbè scusami mi hanno telefonato ho riattaccato subito dopo che hanno inventato la polvere da sparo era mia madre e potrebbe richiamare e non so se quando le butto giù non so se afferra che non posso parlare quindi se vado via è lei che insiste e io che butto giù capito? per la mamma questo è d'altro e niente dopo che venne inventata la polvere da sparo si decide piano piano di fare questi fuochi e sono diventati una consuetudine un qualcosa di storico ecco ok bene e poi il rigoroso la finale di di calcio storico è comunque una cosa molto nostra e sono molto triste devo dirti la verità perché finché ci tolgono che poi ti ripeto ci tolgono non è la parola giusta perché è tutto comunque per causa di forze maggiori ed è giusto però passami passami la frase ci tolgono finché ci tolgono lo scopo del carro finché ci tolgono i fuochi va bene però il calcio storico quando poi arrivi al giorno della finale non c'è ti manca ti manca un qualcosa di per noi importante capito? per noi importante vedere quei ragazzi in piazza si danno battaglia è un qualcosa di di forte di molto di molto adrenalinico e sono veramente triste sono triste purtroppo sono un po' triste perché non c'è e quindi mi godo mi godo questo San Giovanni questo patrono molto triste però la tristezza fa bene ogni tanto fa bene perché comunque ti stimola la la creatività serve a far succedere qualcosa diciamo è detto ciò perciò domani che San Giovanni non avrai questa giornata particolare se vai io e te a giocare a calcio storico ci si mette in piazza e ci si ficchia finché qualcuno un vice io mi ho metto il 56 e i miei 46 chili potremmo farcela probabilmente ecco mi hai fatto passare tutto l'entusiasmo esco veramente che eri una delle donne più belle del mondo e allora esco è andata male in realtà sei due metri per 20 chili e non mi vuoi dire ascolta quanto sei alto sono 1,70 purtroppo ma non ci credo neanche se ti sembro alto per Dio no cioè veramente no credimi non sono alto credimi veramente cioè è sempre stato il mio cruccio così si può dire ma sì dai nella botte piccola c'è vino buono dai ma come dicevi Milano tanto un po' di sedi siamo tutti uguali tanto sono le nove è tutto sdoganato ormai vai ascolta io leggevo un po' in negli eventi eccetera in internet per cui domani cosa fanno invece di San Giovanni ma un sacco di roba sì c'è questa cosa combinata tra tra Firenze Genova e Torino tanti ospiti tanti monumenti verranno illuminati no la città si dà da fare cerca di viverlo nella stessa maniera ed è tutto molto bello e apprezzo molto lo sforzo ed è bello sicuramente perché non fosse successo niente sarebbe come stato un segno di resa per la città Tota ti saluto e niente però tutti sanno benissimo che non sarà il solito San Giovanni perché senza la finale ti ripeto non è uguale ok ma sarà diverso ma sarà bene lo stesso dai Pedro fammi un sordiso no perché finché ti ho detto finché si parla di scoppio di carro c'è Cinesi a fare le foto dalle sei la mattina c'è Coda e tutto vabbè i fogli un cassino una madonna va bene però quello cioè se te ora vai se dopo finito me fai una diretta con un senese e gli chiedi se riesci a vedere il positivo sul fatto che non c'è il palio e ti risponde come me capito cioè domani siamo tristi giovedì se ne riparla capito ok per un giorno si può stare anche triste non succede nulla va bene dai allora ti faccio l'ultimo paio di domandine guarda sono brava rapida veloce stringiamo ascolta guarda questa dall'alto della nostra dopo questa pandemia secondo te con tutti i video che si sono fatti un sacco di persone che hanno lavorato in smart working eccetera cosa ci rimane secondo te di tutti questi lavori questi eventi che sono stati fatti online che ci rimane secondo te ma guarda la verità io ho visto tante persone che hanno cercato me compreso di reinventarsi anche in un momento di nel momento del lockdown è stato bello ci siamo tenuti molto compagnia e qualcosa rimarrà io ho un amico Jonathan Canini un comio sicuramente qualcuno lo conoscerà ed è un ragazzo che ti faccio questo esempio cioè gli annulano tutti gli spettacoli a teatro una tragedia per un ragazzo che fa l'attore si è messo a raccontare la sua famiglia ha fatto il doppio dei numeri che avrebbe fatto facendo i suoi video normali l'ho chiamato e gli ho detto bravo complimenti perché veramente da lì è lì vedi perché ti dico posso nascere delle opportunità perché è tutto qui capito il saper reagire e quindi questo è un esempio poi ci sono tante cose per esempio c'è il Firenze Sottovetro questi ragazzi che hanno deciso di fare un film documentario usando diciamo i video delle persone durante l'oggano delle bravissima ora mi viene la parola su stanco delle comunque dei video e loro poi dopo li montano tutte delle testimonianze delle testimonianze del lockdown e sarà comunque anche quello un ricordo della città però sai cosa ora le persone sono stanche vogliono tutto tranne vedere il lockdown vedere la negatività vedere le restrizioni quindi in questo momento secondo me cioè è ora il momento di vedere oltre capito è stato bello sicuramente è stato bello non molto comunque siamo riusciti a trovare del bello ci ha migliorato sicuramente me compreso però però basta basta ora basta ci siamo siamo positivi ora basta ora basta ora si riparte con giudizio con il cervello però basta assolutamente basta si riparte perfetto a proposito di ripartire tu oltre a Firenze adesso stai vedendo anche altre città a chi lo stai facendo a te lo sto facendo a te proprio a te sì levai la penna e non indicare tu proprio tu allora stai scoprendo delle nuove città e insomma tutti abbiamo cambiato i nostri piani anche tu stai cambiando i tuoi ci dai qualche anticipazione di cosa dobbiamo aspettarci dai un wiki pedro quest'anno che ci fai che ci combini guarda ce n'ho tante di cose in mente e vorrei rimanere vorrei rimanere in Toscana e raccontare la Toscana raccontare a quei borghi sconosciuti che loro davvero soffrono la mancanza di turismo perché soffre Firenze Roma e Venezia ma si riprenderanno velocemente però veramente il borghettino sconosciuto quello soffrirà davvero però mi piacerebbe molto anche ho questo pallino di Roma io non conosco Roma purtroppo ed è un ed è una cosa troppo grave io non posso essere stato tre volte a New York e una volta a Roma non esiste cioè è una cosa che non può esistere non deve non deve succedere quindi questa è una cosa che devo rimediare voglio scoprire Roma e mi piacerebbe raccontare te lo svelo a te proprio in esclusiva mi piacerebbe raccontare Michelangelo a Roma quello che Michelangelo ha fatto a Roma ok prendere un artista fiorentino che va a Roma e raccontarlo cascavo il chiodo lo raccatto poi se no pesto il chiodo è bestemmio in etrusco quindi lo raccatto e lo rimetto a posto bravo ragazzo bene ok molto bene ora ci salutiamo molto bene grazie per questa anticipazione allora ma grazie a te ma grazie a te e poi invitati a scuola mi raccomando ah bello guarda che il 6 6 luglio qua apriamo si fa una festina se vuoi passare per un caffè o un bicchierino di vino ti aspettiamo va bene amiche bergamasche sopra l'1,60 ce l'hai? no te le tieni piccine come te benissimo se non toscani si vede per il culo tranquilla ma sì vai tranquillo ma certo sono abbastanza rodata meno male dai meno male hai visto Pedro grazie mille ma grazie a te ma che avevo di meglio da fare io alle 9 di sera di martedì se non una diretta con te vai vai ci si vede per il film ciao a tutti ciao a tutti ciao ciao Grazie.